Buongiorno a tutti, Roberto Giacchetti in studio per ore 9 di questa mattina, lunedì 18 dicembre 2017, ovviamente i temi che ci troviamo sui giornali oggi sono sostanzialmente gli stessi che abbiamo trovato nei giorni scorsi e cioè in particolare il tema delle banche, però apriremo con un'intervista che Matteo Renzi ha rilasciato al Corriere della Sera, Maria Teresa Melli che spazia su diversi argomenti, sulle banche vi ho detto, vedremo Messaggero, Stampa, Repubblica, Fatto Quotidiano, Foglio e via dicendo. Segnalo a proposito del bilanci che si iniziano a fare sull'anno trascorso, sul foglio in prima pagina e poi nelle pagine successive un bilancio ampio e dettagliato di Crippa su Paolo Gentiloni. Ci occuperemo di fake news? Sì, perché ne parla Repubblica nella prima, nella seconda e nella terza pagina con anche approfondimenti di Ilvo Diamanti e in qualche modo non relativi all'Italia ma relativi invece al peso delle interferenze russe in America se ne occupa il Corriere della Sera a pagina 13. Ovviamente abbiamo la manovra economica, la vedremo dal Corriere della Sera e dal Sole 24 ore. Repubblica a pagina 10 pubblica un articolo sui vitalizi e sulla scarsa probabilità che possano essere realizzati e anche delle perplessità del Senato, lo vedremo, ma come sapete questa è una decisione che dovrà essere presa al Senato nelle prossime ore. Segnalo per quanto riguarda approfondimenti di vario tipo un interessante articolo di Galli della Loggia che riprende degli articoli che ci sono stati nei giorni scorsi di Giavazzi e di Panebianco sul tema del mercato. Sui cantieri TAP, Corriere della Sera in particolare, segnalo c'è un approfondimento sulle decisioni che sono state respinte dalla Commissione Bilancio su un emendamento del Governo che chiedeva l'arresto così come avviene in altre parti per chi blocca i cantieri e vedremo anche un'intervista, la potremo solo accennare, al Governatore Emiliano, Michele Emiliano, per quanto riguarda le nomine che dovranno essere fatte nei prossimi giorni a cominciare dai vertici più alti dei carabinieri ma anche di altre nomine ne vedremo sul Messaggero a pagina 5. Poi ci sono i partiti, vedremo rapidamente cosa accade nel momento 5 stelle, Repubblica, Messaggero, Giornale, lo vedremo anche per quanto riguarda l'abbonino e la lista sull'Europa che è stata presentata nella giornata di ieri, anche per quanto riguarda Libere e Uguali c'è qualcosa su Repubblica in particolare riguardo le possibili candidature, sulla destra c'è un ampio dibattito perché come sappiamo ci spiegano che sono uniti e si vogliono bene, in realtà si picchiano dalla mattina alla sera, lo vedremo sul Correa Sera, Messaggero, Giornale e Libero. Poi c'è da segnalare sul tema degli immigrati un reportage, un approfondimento della stampa molto interessante nella pagina 2 e 3, adesso siccome io ho perso la stampa vorrei chiedere se qualcuno mi sente, se mi recupera la stampa che ho fatto portare via, ovviamente se qualcuno mi sta ascoltando. Va bene, speriamo di trovarla, se no non potremo vedere alcuni interventi. Per quanto riguarda ancora le carceri, segnalo a pagina 19 di Repubblica, un'ampia intervista al Ministro Orlando sulla riforma del sistema carcerario, Consiglio di Stato, segnalo sul fatto quotidiano, vediamo se ritroviamo la stampa che ho dato di là insieme alla mazzetta, fatto quotidiano sul Consiglio di Stato, un'ampia e diffusa nota nelle pagine 6, un articolo sulle pagine 6 e 7, ovviamente non può mancarci il dibattito su Savoia che vi risparmio nell'approfondimento, ne parlano ovviamente tutti i giornali, per quanto riguarda Reggeni e il rapporto con Al-Sisi, segnalo Repubblica a pagina 18 e poi due notizie di politica estera, il Pentagono, grazie infinite che studiava gli UFO e beati loro e invece per quanto riguarda il Sudafrica, sul fatto un interessante articolo a pagina 12 e 13 che ricostruisce il dopo Mandela con tutti i problemi che questo comporta. Bene, possiamo passare rapidamente all'intervista a Matteo Renzi, è annunciata sulla prima pagina di Corriere della Sera, Renzi è vero, consensi in calo, non sono più a livello del 2014 ma la squadra c'è, saremo il primo partito, dice Maria Teresa Meli, Renzi i sondaggi danno il PD in calo, risponde Renzi, ho letto il dato di Pagnoncelli, l'elemento preoccupante non è l'ultima settimana ma il trend, da maggio ad oggi il PD ha perso quasi 7 punti, stiamo pagando il fatto che gli altri sono in campagna elettorale mentre noi dobbiamo sostenere la responsabilità di governo e passiamo il tempo a litigare all'interno, era ovvio che per il PD fosse meglio votare a giugno o al massimo a settembre, chi allora sosteneva questa tesi è stato accusato di irresponsabilità ma non votando si è fatto un clamoroso assist sta Berlusconi e Grillo, adesso però è inutile piangere sul latte versato, quando inizierà la campagna elettorale finiranno le polemiche interne e il PD potrà riprendere a parlare al Paese, siamo già con questi sondaggi negativi, il primo gruppo parlamentare del Paese, vogliamo essere però il primo partito più votato e scateneremo una campagna elettorale a tappeto per farcela, vedo la mia gente, immagino i candidati, leggo i risultati di questi anni e dico il PD sarà il primo partito, domanda Lameli, schiererete tutti i big a cominciare da gentiloni, il brand Renzi non funziona più, risponde Renzi, io non giro intorno ai temi, non è mio stile, è evidente che il mio consenso personale non è più quello del 2014, ma le dico con totale sincerità che se è vero che il grafico del mio gradimento è sceso, è altrettanto vero che è salito il grafico degli occupati, del PIL, della fiducia degli investimenti, non farei a cambio, meglio aver perso qualche punto in qualche posto di lavoro, meglio aver perso qualche punto io che qualche posto di lavoro in Italia, il miracolo di questi anni è stato reso possibile dal PD che è anche Gentiloni, è anche Minniti, è anche Del Rio, è anche Franceschini e tutti gli altri, ovvio che allora in campagna elettorale questi ci metteranno la faccia e il cuore nei collegi, siamo una squadra forte, altro che discorsi, i nostri candidati saranno i più competitivi, dice ancora Lameli, il ministro Orlando dice che lei deve farsi da parte, risponde Renzi, fossi Andrea mi preoccuperei di darci una mano a cercare i voti anziché alimentare le polemiche, per quelle aspettiamo il giorno dopo le elezioni, l'avversario di chi vota il PD non è Matteo Renzi, spero che tutte le opposizioni interne ne siano consapevoli, ancora Lameli si è pentito della commissione sulle banche, risponde Renzi, non solo non mi sono pentito ma lo rifarei domani mattina, dobbiamo dividere, chiedo scusa, i risultati del lavoro della commissione della mistificazione che ne viene fatta da una parte delle opposizioni e da alcuni media, la commissione è un bene per il paese perché mostra con chiarezza che in modo in cui qualcuno ha rubato, i giudici dovranno dirci i nomi, che doveva vigilare avrebbe potuto fare meglio, la commissione non punisce i ladri di ieri, aiuta le guardie di domani a fare meglio il proprio lavoro e per questo io la giudico un servizio ai cittadini, sulla capacità di migliorare il sistema dei controlli ci giochiamo un pezzo di futuro, altro che polemiche elettorali, qui ne vale della credibilità delle istituzioni, le polemiche delle opposizioni dureranno ancora dieci giorni, i risultati della commissione serviranno per i prossimi dieci anni, dice Lameli ma per il PD è stato un problema, risponde Renzi, il PD in questi anni ha salvato il sistema bancario italiano dalla più grande crisi del dopoguerra, i salvati nelle fattispecie non sono i banchieri che abbiamo commissariato o mandato a casa senza guardare in faccia nessuno ma decine di migliaia di correntisti, abbiamo agito salvando migliaia di posti di lavoro mandando a casa un centinaio di membri di consigli di amministrazione, cambiando le regole sulle popolari per evitare nuove vergognose connivenze tra politici elettorali e manager senza scrupoli, rivendico con forza questo lavoro, con queste e altre iniziative abbiamo consentito la ripresa di arrivare anche in Italia, ma soprattutto abbiamo salvato tanti risparmi di un ceto medio che per colpa delle regole europee avrebbe rischiato moltissimo, regole peraltro volute dai governi precedenti e ancora dice Meli, in tutto ciò c'è Banca Etruria, rispondere enzi demagogia è prendere un problema complesso e presentarlo in modo forviante ai cittadini indicando un facile capo espiatorio, nel linguaggio barbaro di 5 Stelle e di parte della stampa sembra che il problema delle banche italiane siano Banca Etruria e Bosti, chi ha sbagliato su questo vale per chi ha sbagliato su Banca Etruria deve pagare, ma questo vale per tutte le banche, soprattutto quelle dove i veri scandali vengono coperti, le sembra normale che dall'audizione del capo della Consob i giornali abbiano riportato solo il pranzo con la Boschi a Milano, quello ha fatto il capo della Consob per 7 anni, è possibile che non avesse altro di più interessante del pranzo con un ministro? Ancora interviene la Meli con la domanda, ma secondo lei Boschi non dovrebbe fare un passo indietro, rispondere enzi la Boschi è oggetto di un'attenzione spasmodica che copre i veri scandali di questi anni. Un vostro commentatore ha scritto sul Corriere, a questo punto non importa se Boschi ha detto o meno la verità, a noi del PD sì, la verità interessa più del pregiudizio, a gennaio comunque gli organi del partito decideranno, la mia opinione è che si debba candidare senza alcuna incertezza, i colpevoli li giudicano i giudici, i politici li giudicano gli elettori. Ancora Meli, la campagna sulle fake news stenta a decollare, rispondere enzi nessuno pensa che vinceremo la campagna elettorale parlando di fake news, aggiungo che il tema delle fake news non è importante tanto per la politica quanto per la salute dei nostri figli, la battaglia sui vaccini, le sfide contro l'onoressia, le ricette finte contro il cancro, insomma evitare che la rete sia piena di schifezze è un dovere morale civile. Penso però che sia fondamentale fare chiarezza anche sulle strutture inventate di sana pianta per alimentare notizie squalide e false, non vedo nemici russi alle porte, dico che la Lega e i 5 Stelle su questo non ce la stanno raccontando tutta, mi colpesce che Di Maio non voglia fare un confronto con me, gli chiederei degli 80 euro e del Venezuela, certo, ma potrei domandargli come spiega l'attività in questo settore di uno dei suoi principali collaboratori, diamo tempo al tempo e vedrete a cosa mi riferisco. Ancora dice la Meli, su cosa si vince allora la battaglia elettorale? Rispondere enzi sul lavoro, tasse, burocrazia, sicurezza sociale, c'è un migliore di posti di lavoro in più ma non bastano, servono nuovi sgravi e servono nuovi profili professionali, dalla ricerca all'innovazione tecnologica, dalla bioingegneria alle professioni ambientali su cui stiamo investendo moltissimo, abbiamo abbassato le tasse a imprese e famiglie ma restano troppo alte, i decreti Madia ci hanno portato avanti il rinnovo contrattuale ormai una realtà, ma ancora la burocrazia italiana blocca aziende e creatività e soprattutto è necessario un concetto di sicurezza sociale che tenga insieme il bisogno di nuova protezione che la globalizzazione pone con gli investimenti in cultura, quelli nelle periferie e quelli sociali, su questi temi nessuno è credibile come il PD e io penso che la maggioranza silenziosa degli italiani non voglia fermarsi. Aggiungere a me, intanto Berlusconi cresce nei sondaggi, rispondere ansia è incredibile come Berlusconi si presenti quale argine ai populisti e poi faccia accordi con Salvini, la loro alleanza tecnicamente non sta in piedi su nulla, a cominciare dal posizionamento europeo, in questi giorni li abbiamo visti litigare ferocemente sul loro comportamento in Parlamento e adesso solo entrambi all'opposizione, ve lo immaginate se fossero al governo? Dicono tutto e il contrario di tutto, sarà una campagna elettorale divertente, noi a raccontare cosa abbiamo fatto in questi quattro anni, loro a spiegare cosa non hanno fatto in 20 anni precedenti, ancora la Meli sulle pensioni, tema ultrasensibile, che intendete fare? Rispondere anzi tassare le pensioni di chi ha lavorato per pagare il reddito di cittadinanza a tutti è un'idea che poteva partorire solo Di Maio, ma il problema è rendere più semplice l'anticipo pensionistico inventato da un gruppo di professori della Bocconi coordinato da Tommaso Nanicini, non inventarsi chissà che cosa e creare lavoro, 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 altrimenti nessuno pagherà le pensioni, semplice no? Sullo Iussoli, conclude la Meli, non siete andati avanti, se non ci saranno le condizioni per mettere la fiducia, questo provvedimento non passerà, ormai è scritto, trovo bizzarro però essere criticato sul fronte dei diritti, mai come in questa legislatura si è lavorato per ampliare la sfera dei diritti, dalle unioni civili fino al dopo di noi, dal biotestamento fino alla legge sull'autismo, così Matteo Renzi l'abbiamo letta tutta sulla prima pagina del Corriere della Sera, vediamo ora per quanto riguarda le banche, possiamo ovviamente sfogliare qualunque giornale, ci sono titoli di tutti i tipi e anche qualche anticipazione di quello che potrebbe dire Ghizzoni, ma partiamo dal messaggero perché mentre a pagina 2 c'è il titolo La Boschi nel Mirino, tutti i timori del PD, l'opposizione attacca, settimana decisiva in commissione, nei dubbi su una ricandidatura, Di Maio lei è solo la punta dell'iceberg, lo Stato è ricattabile, chissà deve parlare, così il messaggero, vi leggo altri titoli così poi rapidamente vediamo anche la intervista di Maria Elena Boschi al messaggero, per esempio se andate sulla stampa, nelle pagine 8 e 9, il titolo è Banche via le audizioni chiave, PD in allerta, Marrenzi tira dritto, oggi Parla Padoan, domani Visco, Boschi candidata ma solo nel listino proporzionale e invece nella pagina 9 c'è un'intervista a Luciano Violante, un errore fare quella commissione ma accanirsi su Maria Elena è vile, Violante a sinistra manca un federatore come Berlusconi, questo sulla stampa, anche Repubblica ovviamente ha il suo titolo sulle banche, c'è la pagina 8, Ghizzoni Boschi non solo Etruria, diversi colloqui senza pressioni, secondo De Bortoli l'ex ministra propose all'ex AD Unicredit l'acquisto della banca, PD contro Visco sui derivati MPS e questo è il titolo di Repubblica ma come vi ho detto ovviamente c'è su tutti, per esempio il Corriere della Sera ce l'ha a pagina 2, Etruria l'altro incontro di Boschi, vide il vice direttore di Banca Italia nel 2014 confronto con Panetta, domani Visco, mercoledì Ghizzoni, le audizioni decisive sull'istituto di Arezzo, così sul Corriere della Sera, se non vi basta questo ovviamente c'è il Fatto Quotidiano che però vedremo dopo perché lo vediamo subito, fa riferimento a una lettera mandata da Agno Letti che è il portavoce di Matteo Renzi, 10 punti, Banca, Renzi scrive la sua verità e sgancia altre bombe su Visco, la replica del leader PD e l'articolo del fatto sui temi che la commissione solleverà il governatore, sulla pagina accanto c'è Giorgio Meletti che ha firmato l'articolo contestato da Agno Letti, gentile segretario, ecco cosa non torna nella sua versione, l'ex premier conferma che la Boschi ebbe vari incontri con banchieri e istituzioni ma non dice a che titolo e manda messaggi in codice, ora il Fatto Quotidiano fatica ma prima o poi riuscirà a capirlo che c'è una differenza tra il parlare e fare pressioni e questo appunto è difficile, anzi impossibile dimostrarlo anche per il Fatto Quotidiano, ma andiamo avanti, il foglio segnalo a proposito delle scelte che diciamo si possono fare ma lo vedremo dopo su Gentiloni, segnalo a questo proposito anche il Quotidiano nazionale che riporta nella pagina 8 un'intervista a Gianni Cuperlo che diciamo parla un po' su tutto l'intervista di Ettore Maia Colombo, caso Boschi a fondo di Cuperlo doveva stare fuori dal governo avvertimento a Renzi, basta anzi di potere, rifondiamo il partito tra l'altro sulla Boschi gli viene chiesto a Cuperlo, Boschi ha smentito le accuse ma avrebbe fatto bene a seguire l'esempio di Renzi dopo la Boschi dovrebbe dimettersi dice Colombo e risponde Cuperlo, Boschi ha smentito le accuse ma avrebbe fatto bene a seguire l'esempio di Renzi e dopo la sconfitta sulla riforma non entrare al governo, ci sono momenti della vita politica in cui direi dei no aiuta dire dei no aiuta a difendere la propria credibilità e tra l'altro diciamo Cuperlo dice, la domanda di Colombo è i sondaggi danno il PD al 23,4% se corri veloce contro un muro e alla fine ti fai male non ha senso prendersela col muro il PD perde consensi da tre anni ma il Vertice non ha mai voluto indagare la ragione vanno rivendicate cose buone come il Biotestamento ma se 6 milioni di persone ti voltano le spalle e tu continui a dire che tutto va bene il muro si fa sempre vicino con tutto il rispetto per Gianni Cuperlo capisco determinate considerazioni vorrei sapere se nella mente di Cuperlo possa passare che magari se si perdono dei consensi è anche perché dall'interno del partito prima quella che era una minoranza e che stava organizzando una scissione e poi diciamo anche chi ci sta ancora in minoranza occupa tendenzialmente più tempo a sparare contro il PD che non contro gli avversari è del tutto evidente che poi magari al di là degli errori che si possono imputare agli altri c'è anche un piccolo peso di responsabilità personale in quello che accade al PD non dimenticandoci mai che il PD non è quello di Renzi, di Cuperlo, di Giacchetti o di altri ma il PD è quella grande comunità, quella straordinaria comunità formata da centinaia di migliaia, milioni di persone che credono in un progetto di rilancio e di riformista per questo paese e ogni volta che diciamo meniamo su questa comunità noi meniamo a tanta gente, non a Giacchetti, Renzi, Gentiloni o chi per loro ma purtroppo questo ormai accade ma allora vediamo, Maria Elena Boschi il caso Etruria, l'intervista, è un'intervista che fa Barbara Ierkov se mi chiameranno andrò in commissione, parla la sottosegretaria, accusano me per colpire i veri scandali sulle banche sarà il partito a decidere se e dove candidarmi alle prossime elezioni tra l'altro nelle domande che vengono poste dalla Ierkov risponde Maria Elena Boschi Vegas, non cancello spesso gli sms, ne ho molto in memoria anche con altri esponenti del credito e del giornalismo e ancora dice la Bosti, dopo la sconfitta al referendum fu Gentiloni a insistere con me perché restasse al suo fianco e ancora negli abstract delle domande e delle risposte che vengono date in questa intervista se riaprono le audizioni in bicamerale sono a disposizione a me la verità non fa paura è un'intervista che vi segnalo, che va seguita, ovviamente non ho il tempo di leggerla adesso tutta ma è sicuramente un'intervista che vale bene, di Gentiloni vi ho detto, è il foglio quotidiano lo vedete qui in prima pagina il titolo è Gentleman of the Year il suo governo all'inizio non convinceva nessuno un anno dopo con pochi tweet molto grigio e buoni risultati è diventato il simbolo di un paese ottimista e trasversale il punto di equilibrio di un'Italia alternativa all'isteria populista perché Paolo Gentiloni è il nostro uomo dell'anno è Maurizio Grippa che scrive sulla prima pagina del foglio e poi anche in, prosegue in seconda, a pagina 2 un anno vissuto razionalmente Gentiloni ha trasformato una necessità, gli scarsi margini di manovra in una strategia di governo l'iperprofessionismo politico contrapposto al populismo così il foglio quotidiano vediamo allora, come vi dicevo, le fake news cominciamo da Repubblica il titolo in prima pagina di spalla è fake news sul web metà degli italiani è stata ingannata sondaggio, un quarto le ha pure rilanciate tra l'altro c'è un articolo di Ilvo Diamanti che prosegue nelle pagine 2 e 3 fra buone, cattive e false notizie gran parte degli italiani ormai si informa prevalentemente se non solo su internet è in misura sempre più larga attraverso i social media è ciò che emerge dall'indagine condotta da Demoscope nei giorni scorsi così anche la disinformazione corre veloce lungo gli stessi canali alle news si affiancano talora si sovrappongono e si sostituiscono le fake news d'altronde la rete è accessibile a tutti uno strumento di comunicazione democratica fin troppo forse perché è tanto libero di essere poco controllato da ciò i problemi che da qualche tempo vengono sollevati denunciati come origine di interferenze che avrebbero condizionato avvenimenti internazionali e nazionali di grande importanza fra tutte le elezioni americane a favore di Trump ma avrebbero interferito si è detto anche su quelle italiane in diverse occasioni i responsabili sarebbero produttori di fake che agiscono in alcuni luoghi protetti a pagina 2 anche qui vedete cioè non lo vedete ma lo dico io fake news cresce l'allarme beffato un italiano su due al 56% è capitato di considerare vera una notizia letta su internet che poi si è rivelata falsa il 23% ha condiviso in rete contenuti per scoprire successivamente che erano infondati e c'è la scheda delle varie diciamo fake news relative al 2016 12 dicembre 2016 Paolo Gentiloni nominato premier sul web gira subito la farase falsa italiani fate sacrifici non lamentatevi 27 settembre 2017 uno dei bersagli preferiti delle fake news è Laura Boldrini un senatore leghista apposta la foto di un presunto fratello assunto in un ente a 47 mila euro al mese nella fake news viene usato anche il nome della sorella morta della presidente della camera 22 novembre 2017 il 22 novembre Boots Veed dà spazio a un'inchiesta di Alberto Nardelli che ha portato alla chiusura di una fitta rete di siti che propalavano in rete cattiva informazione fake news a fini politici e di lucro e va bene si prosegue chi è interessato comunque pagina 2 e 3 di Repubblica trovate anche tutti questi esempi la manovra sole 24 ore i nuovi lavori del 2018 da tecnologia e servizi ICT Big Data e Industria 4.0 con gli sgravi 424 mila posti il borsino delle assunzioni i premi accanto ai profili tradizionali le figure high skill e andiamo anche a pagina successiva nella pagina 3 la svolta high tech cambia il mercato del lavoro domanda sostenuta grazie a sgravi contributivi Industria 4.0 ma resta il nodo delle competenze questo sul sole 24 ore c'è anche sul Corriere della Sera qualcosa che riguarda la manovra anche se lontano nella foliazione stiamo a pagina 19 e il titolo è Manovra noi e beni demanio degli stati esteri il governo ritira l'emendamento diventa più veloce la riscossione delle pene pecuniari affidata ad Equitalia e anche qui c'è tutto quello che vi può interessare sulla manovra del 2018 le spese il mancato oggettito le coperture e il totale che è di circa 20 miliardi di euro bene il tema dei vitalizi vi avevo detto ne parla Repubblica a pagina 10 c'è un articolo di Emanuele Lauria vitalizi il dossier salva gli ex onorevoli se passa la riforma sui tagli ci tocca un rimborso da 300 milioni un senatore lungo corso si spinge a parlare di una class action dei parlamentari e soprattutto degli ex pronti ad andare alla controffensiva nel caso ormai remoto che dovesse passare il taglio di vitalizi e pronti soprattutto a porre come scudo una realizzazione scritta negli uffici di Palazzo Madama lì viene messo nero su bianco che la cosiddetta legge di Chitti passata alla Camera ma non al Senato sarebbe un boomerang per le casse pubbliche taglierebbe gli assegni di 2600 eletti oggi a riposo motorizzerebbe un numero maggiore di beneficiari compreso anche chi tuttora è carica e a chiedere un maxi risarcimento delle imposte pagate su vitalizi danno dell'erario per 300 milioni diciamo che forse anche questa è una mezza fake news ma andiamo oltre anzi non forse mercato come vi dicevo sul Corriere da Sera posso solo segnalarvelo è Ernesto Galli della Loggia che fa seguito a interventi di Giavazzi e Panebianco le regole senza più la sanzione dice tra l'altro in riferimento a perché non è amato il mercato in Italia dice in realtà dice Galli della Loggia in realtà invece la perdurante ostilità di italiani verso il mercato ha una spiegazione molto concreta e fondata ed è il modo come il mercato funziona qui da noi mi spiego nel mercato se si vuole che esso raccolga in consenso di tutti i partecipanti non devono essere ammessi giochi sporchi trucchi e soprattutto disparità di accesso alla fissazione delle sue regole e quando si verifica uno di questi casi devono seguire immediatamente le sanzioni anche perciò come è ampiamente risaputo il mercato ha bisogno di regole precise che evidentemente non possono essere stabilite che dallo Stato le quali regole altrettanto evidentemente torno a sottolinearlo non devono essere consegnate per favorire alcuni a danno di altri così Galli della Loggia merita di essere letto questo articolo cantieri TAP come vi dicevo sul Corriere della Sera pagina 6 se ne parla un articolo credo più più ampio salta l'arresto per chi entra nei cantieri TAP boccia PD dichiara inammissibile remendamento del governo plauso di Movimento 5 Stelle di Liberi Uguali e poi c'è l'intervista di Alberto Trocino a Michele Emiliano manette esagerate io populista no domo gli spiriti guerrieri e tra l'altro dice Emiliano l'intervista siamo favorevoli al gasodotto ma non si può militarizzare mezzo Salento per chi è interessato taglio basso di pagina 6 del Corriere della Sera per quanto riguarda come vi dicevo c'è un tema anche che riguarda le nomine l'ho visto solo il tema affrontato sul messaggero pagina 5 militari e magistratura all'ultimo giro di nomine carabinieri ilio Ciceri in position per il vertice dello Stato Maggiore per la successione al generale del 7 scusate per la successione del 7 per il vertice dello Stato Maggiore dell'esercito favorito Claudio Mora così il messaggero partiti allora rapidamente vi dico subito così lo affrontiamo semplicemente che ci sono delle così chiamano fotonotizie un po' su tutti i giornali è stato presentato il simbolo dell'Europa con Emma Bonino scritto nel simbolo Bonino rompe la scaletta ecco il mio simbolo lo fa a che tempo che fa e ieri in prima serata Emma Bonino ha rispolverato le piratesche incursioni in stile radicale in Rai e ha sorpreso Fabio Fazio mostrando durante la puntata a che tempo che fa un cartello che pubblicizza la lista Europa che è apparsa così per la prima volta in TV la notizia è data diciamo ripeto anche su altri giornali Movimento 5 Stelle Repubblica pagina 10 possiamo leggere ovviamente solo i titoli Di Maio vuole Guariniello è una maggioranza da portare a Quirinale se non arriveremo al 40% la sera del voto faremo un appello pubblico corteggiati per il governo anche Cottarelli e Perotti c'è ovviamente anche qualche problema per il Movimento 5 Stelle ce lo dice il messaggero in particolare perché è a Pomezia che ciò accade pagina 7 Pomezia Movimento 5 Stelle gela il sindaco no a tre mandati sei fuori lui vado con una lista civica problemino che si porrà per il Movimento 5 Stelle il giornale pizzica il Movimento 5 Stelle nella prima pagina al Movimento 5 Stelle piace l'intelligenza artificiale perché hanno sdoganato la pubblicità e poi nelle pagine quattro nella pagina quattro ci sono due articoli Casaleggio sogni ai robot ma il Movimento 5 Stelle ha sdoganato la stupidità a Palazzo è il commento di Francesco Maria De Vigo e poi invece sul sulla pagina il taglio basso Di Maio vuol fare il premier senza voti spera in un governo a maggioranza e variabili altro a fondo sulle banche così il giornale e ci sta ovviamente come vi dicevo anche liberi uguali i nostri Prodi non possiamo Prodi nel senso non di Prodi ma ne diamo notizia Grasso in Lizza a Roma Boldrini a Milano le liste le liste di liberi uguali alle politiche l'idea di schierare la nipote di Prodi contro Del Rio nel collegio di Reggio Emilia attenzione a Napoli per la candidatura del fratello del sindaco De Magistis scende in campo anche Anna Falcone questa è la notizia che non potevamo perdere c'è la destra anche qui come vi dicevamo difficile spiegare che sono uniti loro diciamo lo fanno ma vediamo Salvini programma scritto niente asse con Forza Italia ma su Salvini e Gelo Toti la firma l'importante è che sia chiaro questo il Corriere della Sera pensate che sul messaggero ci sono titoli che danno maggiore un senso di unità per il centrodestra no Alleanza Ewe Scintille Lega Berlusconi il centrodestra diviso questo è il messaggero il giornale che dovrebbe essere quello che diciamo dà una posizione più tranquilla per quanto riguarda la destra ne parla pagina 5 il metodo Berlusconi super sondaggio per le liste ma dall'altra parte il Cavaliere vuole una rivelazione nazionale per dividere le candidature con gli alleati Salvini il Premier lo farò io così il giornale c'è Libero che diciamo ne evidenzia le divisioni nella prima pagina c'è due interviste una a Salvini e una a Di Stefano di Casa Pound Salvini segretario della Lega Silvio vieni dal notaio o ci salta l'alleanza e accanto Di Stefano di Casa Pound Matteo molla il Cavaliere e fai la destra con noi e così anche il centrodestra diciamo dimostra come vi dicevo la sua evidente divisione peccato che viene rappresentato come se fosse e sono all'opposizione come diceva Giustamente Renzi pensate se dovesse essere al governo davvero poche notizie per chiudere pagina 2 e 3 della stampa paura dei migranti non dell'euro ecco la benzina del populismo inchiesta la stampa Financial Times due terzi per la moneta unica pure tra i ghillini solo il 40% si vede multietnico dubbi anche tra gli elettori del PD sulle frontiere aperte comunque sono la pagina 2 e la pagina 3 un meritorio due pagine della stampa sul tema immigrazioni carceri vi dicevo c'è l'intervista a Orlando a pagina 19 del Corriere delle Scusate di Repubblica il titolo è Orlando in cella 506 come Amri riforma delle carceri prima di Natale Gianluca Di Feo lo intervista ci sono numeri molto interessanti non ho tempo di leggerlo però è un'intervista che vale la pena anche per lo sforzo che è stato fatto dal Ministro sul tema della riforma del sistema penitenziario consiglio di Stato vi dicevo il fatto quotidiano due pagine 6 e 7 consiglio di Stato la casta di ordinaria amministrazione e poi c'è Giancarlo Caselli che fa un commento basta con i corsi privati ci vuole un albo pubblico i Savoia vi risparmio lo trovate su tutti i giornali mentre invece per quanto riguarda Regeni pagina 17 pagina 18 al Sisi su Regeni risultati definitivi via un nuovo vertice trappocure incontro al Cairo tra Minniti e il Presidente Geziano e i timori che il caso stia indebolendo il regime il Pentagono studia gli UFO ve l'ho detto così come segnalo dal fatto quotidiano nelle pagine 12 e 13 dedicate al Sudafrica Sudafrica l'eterna faida tra gli eredi di Mandela l'Africa National Congress deve trovare il leader che governerà un paese in crisi corrotto e frustrato dove l'apartheid razziale si è sostituito a quello economico e con questo abbiamo concluso ore 9 io vorrei semplicemente invitarvi a continuare a stare all'ascolto a seguire le diverse trasmissioni nelle quali cerchiamo di darvi informazione su cosa innanzitutto su quello che abbiamo fatto ancora a Roma vi è stata una mobilitazione sabato sul tema delle misure che abbiamo preso per la povertà i 534 euro al mese ma ogni giorno ci sono notizie che vengono fornite o dagli istituti dall'istat e da altri o anche semplicemente da racconto di quello che è stato fatto in questo anno per dire che in questi anni di governi Renzi Gentiloni abbiamo fatto tante cose ed ha perfettamente ragione Matteo Renzi lasciamo agli altri chiacchierare su quello che faranno avendo dimostrato di non essere stati capaci di farlo quando potevano e dedichiamoci concentriamoci concentriamo il nostro impegno le nostre energie per parlare con le persone per parlare soprattutto con tutte quelle persone sono tantissime che non sono pregiudizialmente schierate contro di noi contro il Partito Democratico semplicemente per informarli per raccontargli non solo ovviamente quanto questo paese in questi anni è cambiato grazie all'azione del Partito Democratico ma soprattutto quali sono le nostre idee le nostre proposte per fare in modo che questo paese possa fare un ulteriore importantissimo e decisivo salto di qualità solo così io penso noi potremo non solo vincere le elezioni ma anche affrontare una campagna elettorale pulita una campagna elettorale seria una campagna elettorale che faccia recuperare il valore della politica e non semplicemente le becere accuse polemiche spesso e volentieri piene di insulti che dobbiamo subire dalla mattina alla sera in tutto questo io mi auguro che questo lavoro di ricostruzione e questo lavoro di racconto di quello che abbiamo fatto e di quello che dobbiamo fare possa essere un racconto collettivo e che possa finire francamente di dover leggere ancora sui quotidiani dalla mattina alla sera prese di posizioni anche interne che probabilmente magari potranno essere frutto di un dibattito politico che faremo dopo che avremo chiuso questa vicenda che riguarda della campagna elettorale lo dobbiamo ripeto non a noi stessi che abbiamo la fortuna e il privilegio di essere qui parlare e rappresentare il partito democratico ma a quelle centinaia di migliaia e milioni di persone che mentre noi ancora leggiamo determinate dichiarazioni sono invece sul territorio sono in mezzo alla gente sono a parlare per fare e per rendere forte questa straordinaria comunità che è il partito democratico non dimentichiamolo e andiamo avanti insieme grazie a tutti